Verrà inaugurata sabato la Casa dei Tesori di Arezzo, quello che impropriamente è stato chiamato fino ad oggi Museo dell'Oro. L'esposizione di opere custodite nei cavò di Arezzo Fiera e i congressi, per lo più sconosciuta al grande pubblico, diventerà finalmente visitabile a tutti, testimoniando come l'arte orafa abbia da sempre caratterizzato la cultura aretina. Per la prima volta la città dell'Oro ha un luogo fisico dove si vede ciò che questa città è stata capace di fare, quindi per la prima volta c'è una cucitura tra un comparto così importante e la città stessa. All'interno di questi bellissimi pezzi che sono tanti ci sono anche i nomi di aziende che non sono più aperte e questo per me è un elemento determinante perché vivendo tutti i giorni questo settore vedo quante difficoltà nel corso degli anni ci sono state e vorrei e voglio che questo sia anche uno strumento per non perdere la memoria perché se noi siamo il primo distretto d'Europa, se noi rappresentiamo oltre un terzo dell'export italiano lo dobbiamo anche a queste persone che ci hanno provato e che magari stanno facendo altro. L'apertura frutto di un articolato e complesso lavoro di coordinamento tra Camera di Commercio, Comune di Arezzo, categorie economiche, Arezzo, Fiere e Congressi, Regione e tante altre realtà è il compimento di un percorso volto a valorizzare il patrimonio non soltanto economico che l'oreficeria Aretina rappresenta per la città dalla sua fondazione. Si fa un ulteriore passo avanti, un percorso che è iniziato nel lontano 1987 quando gli allora vertici della Camera di Commercio e di quello che si chiamava Centro Affari pensarono di dare uno stimolo e un approccio diverso a quello che era il nostro distretto orafo che allora aveva oltre 2000 imprese. È un approccio, un percorso verso la qualità e verso l'eccellenza e sono stati appunto fatta questa contaminazione con il comparto della moda tanto da oggi avere oltre 300 pezzi disegnati tra l'altro da importanti stilisti, architetti, nazionali e internazionali. Tra l'altro devo dire Andrea Ricordato